Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Come vedete dal titolo, anche questo mese andremo a vedere insieme le novità più interessanti che ci aspettano in libreria nelle prossime settimane. Luglio sarà un mese che in verità non porterà con sé tantissime novità, è un mese piuttosto scarno, ma che comunque ci riserverà diverse sorprese, delle uscite che devo dire attendevo da diverso tempo e che magari sicuramente potrebbero interessare anche alcuni di voi. E siccome fa davvero molto molto caldo e non so quanto riuscirò a portare avanti questo video, io direi di cominciare immediatamente. Le premesse sono le solite, ovvero queste che vi mostrerò non sono tutte le uscite previste per il mese di luglio, ma sono appunto, è una cernita delle uscite più interessanti e soprattutto alcune di queste uscite, soprattutto quelle italiane, possono avere degli eslittamenti di giorni, settimane, eccetera, eccetera. Quindi, come sempre, prendete carta e penna, prendete appunto qualcosa per tracciare le uscite che vi interessano di più, anche qualcosa da bere e da scarnocchiare e cominciamo immediatamente a vedere quali sono le novità che ci aspetteranno a luglio. Partiamo dal 2 luglio, per Oscar Bolt uscirà Cursed di Marissa Meyer, si tratta del secondo libro della serie iniziata con Gilded, una serie che io in verità ho deciso di non leggere. Mi interessava molto, Marissa Meyer è l'autrice appunto delle Croniche Lunarie, della trilogia di Renegades, che io non ho letto. Ho letto Le Croniche Lunarie, che sapete comunque essere una trilogia, una saga, anzi, Young Adult, che ho apprezzato moltissimo. Mi interessava appunto il ritorno di Marissa Meyer nel mondo delle favole, in qualche modo, con questa nuova saga, ma ho deciso di non dargli nemmeno un'opportunità, non mi interessa. Però, se qualcuno di voi ha letto Gilded e stava aspettando questo secondo capitolo, arriverà il 2 di luglio. Sempre il 2 luglio, invece, è prevista un'uscita che, contrariamente appunto a Cursed, mi interessa tantissimo, e sto parlando di A Darker Mischief. Si tratta di un thriller di Young Adult, con queste sfumature Dark Academia, che ci va a raccontare la storia di Cal Ware, questo ragazzo che è appunto il nostro protagonista, che vincerà una borsa di studio per un college elitario del New England. Qui Cal spera un po' di ripartire da zero, ma tutto quello che i suoi nuovi compagni di classe riescono a notare in Cal sono i suoi vestiti economici, il modello di iPhone più vecchio rispetto a quello degli altri ragazzi. Cal quindi comincerà a sentirsi sempre più tormentato e anche sempre più isolato, quindi quello che comincia un po' a provare questa esigenza e questo bisogno di ritornare a casa sua nel Mississippi, fino a quando non si imbatterà, non conoscerà il mondo segreto delle società segrete che ci sono all'interno di questo college, e qui conoscerà Luke Kim. E quando i rituali e tutti i passaggi che permetteranno a Cal di entrare all'interno di questa società segreta si fanno sempre più riscosi, Cal dovrà cominciare a capire fino a che punto vuole spingersi per entrare all'interno di queste società segrete. Come capirete appunto all'interno di questo libro ci sono diversi elementi che mi piacciono moltissimo partendo dalle società segrete, si tratta di un libro queer, quindi devo dire che ci sono tantissime cose all'interno di questo libro che mi chiamano e sono molto molto curioso di leggerlo. 2 luglio per Nord abbiamo un grandissimo ritorno, ovvero PC e Kirsten Kast, ovvero le autrici della Casa della Notte. Saga appunto sui vampiri che seguiva un po' appunto lo strascico di Twilight, a cui io sono estremamente affezionato. È una trashata epocale che prima o poi io vorrei veramente rileggere e fare dei video riguardo la saga di Markhead perché ci sarebbe davvero tanto da dire e ci divertiremo tantissimo. Sa di fatto che il 2 luglio per Nord uscirà Draw Down the Moon, l'Accademia della Luna. Una nuova saga appunto di queste due autrici che sono tra l'altro madre e figlia che ha una trama sicuramente per niente originale, infatti ci racconta della nostra protagonista Bran che all'interno della sua famiglia è l'unica a non avere dei poteri magici e poi improvvisamente il giorno del suo diciottesimo compleanno, come sempre accade, purtroppo a me non è successo, ma ai protagonisti appunto di questo tipo di libri succede sempre. Tante il giorno del suo diciottesimo compleanno qualcosa succede, viene pervarso da questa fortissima energia che la farà diventare una Lunari, ovvero le persone che hanno delle capacità magiche. Quindi vedremo Ren entrare all'interno di questa Accademia, cominceranno a succedere delle cose abbastanza strane e inquietanti e Ren si ritroverà ad indagare. Quindi diciamo che è una trama per niente originale, devo essere sincero, vorrei leggere questo libro. Vorrei leggerlo e vedere che cosa hanno tirato fuori questa volta le cast. Sono curioso, sicuramente sarà anche in questo caso una trashata incredibile, ma vorrei dargli un'opportunità, quindi vedremo se riuscirò a leggerlo. Il 5 luglio invece per Thea uscirà il secondo volume che va a racchiudere la saga dei tre regni di Morgan Rhodes. Alla fine di giugno è uscito il primo volume che racchiudeva i primi tre romanzi, in questo caso abbiamo gli altri tre. Io avevo letto i primi tre volumi appunto di questa saga tantissimo tempo fa, ci ho messo ovviamente una grandissima pietra sopra per le troppere cose problematiche, problematiche non in senso di problematico, ma di bruttezza, che questa saga si portava dietro. È una saga che comunque ha avuto un grande riscontro e che La Thea sta riproponendo appunto con queste nuove edizioni, quindi se siete sempre stati curiosi di leggerlo, abbiamo queste raccolte che stanno uscendo e la seconda uscirà proprio il 5 di luglio. Il 9 luglio per Fazzi invece uscirà il nuovo libro di Emilia Hart che abbiamo appunto conosciuto con Wayward, in questo caso non parliamo di streghe, ma come il titolo teoricamente suggerisce di Sirene. Infatti si chiama Sirene, questo nuovo libro, un libro autoconclusivo che ha un po' diciamo la stessa impostazione, va un po' a toccare le stesse tematiche di Wayward, un libro che avevo sicuramente apprezzato, non perfettamente nelle mie corde, ma sicuramente un bellissimo libro. In questo caso con Sirene conosceremo la storia di queste quattro donne che vivono in periodi completamente diversi. Nel 2019 seguiamo la storia di Lucy che cercherà l'aiuto della sorella Jess nel cercare di capire che cosa stanno a significare questi strani sogni che continuano a tormentarla e in cui vede due sorelle nafragare. Invece nel 1800 abbiamo altre due sorelle, Mary ed Elisa, che iniziano a notare degli strani cambiamenti nei loro corpi, dei cambiamenti che non riescono a spiegarsi e in qualche modo la storia di queste quattro donne comincerà a legarsi. Quindi diciamo un po' che la struttura, se avete letto Wayward, è praticamente la stessa. Sicuramente è un libro che mi piacerebbe leggere perché ho apprezzato comunque Wayward nonostante non fosse propriamente nelle mie corde per certi aspetti. Vedremo se riuscirò a leggere anche questo Sirene. E finalmente il 9 luglio per Oscar Volt, un sospiro di sollievo, veramente un sospiro di sollievo, uscirà Dark Era della Packet, ovvero il secondo libro della saga iniziata con Dark Rise. Un libro che aspettavo molto, ma che si è rivelato essere un po' tutta fuffa e che appunto non vedo l'ora in realtà di continuare a leggere con questo secondo capitolo. Ci siamo, uscirà, sono molto curioso di vedere come la storia continuerà e soprattutto con questo libro capiremo se effettivamente c'è sostanza in questa storia oppure è veramente la fuffa che la Packet ci ha raccontato con il primo volume. Lo stavo aspettando tantissimo, devo essere sincero, lo leggerò immediatamente. Appena lo avrò tra le mani comincerò la lettura di questo secondo capitolo sperando appunto che la situazione migliori e non sia una portata in giro come è stato Dark Rise. Il 9 luglio invece per Rizzoli uscirà Sister of Sword and Shadow, un libro di cui non conoscevo minimamente niente vi andrò a leggere velocemente la trama. Il futuro di Cass, 17 anni, sembra già tutto scritto, un marito, dei figli, un'esistenza tranquilla. Ma proprio il giorno del matrimonio della sorella tutto cambia. L'incontro fortuito con una donna a cavallo con indosso un'armatura di cuoio la porta alla sorellanza della spada. Un gruppo di cavalieri al femminile che si batte in segreto per rimediare i sorprusi che i più fragili donne e poveri bambini subiscono da sempre. Cass sceglie di restare con loro, rinunciando ai propri effetti e alla vita che ha sempre conosciuto per entrare in un mondo di gloriosi battaglie e uomini pericolosi. Ciò che ancora non sa è di celare dentro di sé un potere in grado di cambiare non solo il suo stesso destino, ma anche quello di tutta la sorellanza. Questa appunto è la trama di questo libro. Devo essere sincero, anche qua mi sembra un po' la solita solfa che negli ultimi tempi abbiamo visto i libri di questo tipo. Non credo appunto che lo andrò a leggere, non ho molto interesse. In realtà, ripeto, non lo conoscevo, non l'avevo nemmeno visto pubblicato all'estero, quindi è un libro che mi è passato proprio del tutto inosservato e devo dire che comunque anche con l'uscita italiana non ha stimolato in me nessun tipo di interesse, quindi passerò. Sempre il 9 luglio per Oscar Volta uscirà Un trono di rovine. Secondo libro della saga iniziata con Una rovina di rose, un titolo che per quanto mi riguarda non ha senso, si tratta comunque di un panorama romance che non è altro che un retelling della bella la bestia, quindi non mi interessa andrò avanti, ma per chi avesse amato il primo libro il 9 luglio uscirà il secondo. Ancora il 9 luglio e sempre per Oscar Volta uscirà Dune, l'erede di Caladan. Si tratta di il terzo libro di questa serie spin-off in qualche modo fatta di libri autoconclusivi scritta da Brian Herbert che è appunto il figlio di Herbert. Io non sono molto interessato in verità a questi spin-off della saga di Dune, in realtà dovrei finire anche la saga principale per cui leggere questi spin-off anche se volessi è molto molto lontano. Comunque stanno continuando ad uscire, quindi il mondo di Dune si sta, continua ad essere ampliato anche in Italia, quindi questa è sicuramente una nota molto positiva e appunto lo vedremo uscire il 9 luglio. Un'altra uscita che sicuramente sarà molto interessante per alcuni di voi è sempre prevista per il 9 di luglio ancora per Oscar Volt e si tratta di Erich, la saga infinita ovvero questo secondo volume della saga di Erich devo essere sincero non so di cosa stiamo parlando non so se si tratta di un sequel, di un prequel rispetto alla saga originale non ho idea ancora devo leggere Erich e al momento è una saga che non ho interesse nel leggere quindi la sto un po' rimandando ma appunto anche in questo caso sono molto contento vedere questi libri continuare ad essere pubblicati in Italia. Il 9 luglio uscirà poi il nuovo libro di Jen Lyons che abbiamo conosciuto in Italia con la saga della rovina e dei re pubblicata tuttora da Fanucci una saga di cui ho letto il primo libro purtroppo per quanto mi riguarda nonostante le grandi aspettative che avevo si è rivelato essere invece un grande buco nell'acqua. Questo nuovo libro che si chiamerà The Sky on Fire promette una storia di draghi di misfits e di una rapina che dovranno cercare di portare a casa quindi diciamo che ci sono effettivamente degli elementi molto interessanti però ad oggi non ho molto interesse in questo nuovo libro della Lyons. Invece un altro libro che mi interessa molto è previsto per il 10 di luglio grazie aggiunti un libro di cui avevamo parlato l'anno scorso si tratta di una nuova uscita che finalmente arriva anche in Italia che a me aveva incuriosito fin da subito. Sto parlando di Threads that Bind ovvero fili che legano si tratta di uno young adult che va a prendere a pieni mani da quella che è la mitologia appunto greca e anche qui vi vado a leggere velocissimamente la trama perché riassume un po' il sunto del libro Io è una delle tre discendenti delle Moire la tagliatrice che recide i fili delle vite ma è anche un'investigatrice il cui ultimo incarico l'ha condotta un orribile scoperta qualcuno rapisce le donne recide i loro fili della vita e libera il loro spirito per compiere omicidi per trovare il colpevole Io deve lavorare al fianco di dei dei il ragazzo con cui condivide un filo del destino che li lega dalla nascita come anime gemelle tra segreti che emergono dal passato i sentimenti crescenti nei confronti dei dei Io si ritrova a seguire piste nei vicoli più oscuri della città semisommersa di Alante come vi dicevo appunto stiamo parlando di una storia che va a prendere un po' dalla mitologia greca in modo particolare da Le Moire un libro che mixa tutto questo al thriller al mystery quindi sicuramente degli elementi che mi interessano molto ho delle buone aspettative nei confronti di questo libro sono molto curioso di leggerlo quindi anche questo appena arriverà tra le mie mani sicuramente lo comincerò il 15 luglio poi per Armenia abbiamo l'uscita di Defiant di Brandon Sanderson si tratta del nuovo libro appunto della saga di Skyward questo dovrebbe essere forse il 4 non ne sono sicuro la saga di Skyward di Brandon Sanderson è appunto una saga young adult sci-fi a cui io sono particolarmente interessato e che ogni anno rimando spero di riuscire a leggere il primo possibile perché ci tengo appunto a leggerla e non vorrei rimandarla ancora di più il 16 luglio invece per D'Agostini un altro libro che sono sicuro molti di voi stavano aspettando si tratta di un nuovo romantasi con una copertina tra l'altro meravigliosa e sto parlando di Afragile Enchantment e anche qua perdonatemi vado a leggervi velocissimamente la trama Niyama possiede il dono della magia che le permette di testere emozioni in ogni suo ricamo la stessa magia che prima o poi la ucciderà determinata a sfruttare il breve tempo a sua disposizione decide di accettare la proposta di confezionare il guardaroba per il matrimonio del principe Kid secondo genito del re di Avaland il rapporto tra i due nasce sotto una cattiva stella ma ben presto dovranno rendersi all'attrazione che provano l'uno verso l'altro capirete che è un libro che assolutamente non è le mie corde bellissima la copertina va benissimo ma sicuramente non lo leggerò ma sono sicuro che molti di voi potrebbero essere interessati a questa nuova uscita il 16 luglio invece per Oscar Volt usciranno delle nuove edizioni di libri di Bridgerton ormai da quando è uscita la serie tv su Netflix escono edizioni nuove di Bridgerton così come se fossero boh lecca lecca queste sono delle belle edizioni ovviamente Bridgerton non è nel mio raggio di interesse ho visto la prima stagione ho visto i primi episodi della seconda ma no my cup of tea e sicuramente no my cup of tea anche i libri nonostante devo ammettere probabilmente potrebbero anche piacermi questo non lo metterei in dubbio anzi però non ho sbatti e quindi va bene così però delle belle edizioni cioè mi piacciono proprio queste nuove copertine che questo nuovo look che hanno dato davvero molto molto belle e poi una delle uscite che devo essere sincero non so per quale motivo io sto aspettando di più per questo luglio 2024 uscirà il 16 di luglio per Oscar Bolt e sto parlando di The Final Strife il libro va a raccontare la storia di queste tre ragazze la prima è Syla Syla che sogna di rovesciare la crudele tirania dell'elite dal sangue rosso che opprime l'impero un sogno che però si vedrà infrangere sotto il naso quando la sua famiglia verrà sterminata poi abbiamo Anor che è figlia di una delle donne più potenti dell'impero ma che è sempre stata trattata come una nullità dalla donna che conta di più per Anor ovvero sua madre e infine abbiamo Assa che appartiene alla casta degli schiavi e che nasconde in sé un segreto che potrebbe portare alla distruzione e alla rivoluzione l'incontro tra queste tre ragazze appunto avrà delle conseguenze molto importanti per la storia dell'impero questo è un libro che io avevo addocchiato da quando era stato annunciato e poi è uscito all'estero è un libro che in realtà al suo interno non ha degli elementi che sono proprio quelle cose che dico che devo leggerlo però allo stesso tempo ho questa curiosità la trama tra l'altro mi sembra anche già drista e rivista però voglio dargli beneficio del dubbio e devo dire che mi piacerebbe leggerlo quindi sicuramente sarà nella TBR di luglio il 19 luglio per cui in edizione abbiamo invece l'uscita del Trono di Cenere si tratta del terzo libro della saga iniziata con La nascita di un erede saga che io devo dire mi anche interessava inizialmente ma poi ho perso completamente l'interesse ma anche in questo caso sono sicuro che molti di voi stavano aspettando questo nuovo capitolo il 26 luglio per Fanucci uscirà invece Il sacerdote della ghigliottina di Peter McLean si tratta del terzo libro della saga iniziata con Il sacerdote delle ossa un libro su cui avevo delle aspettative gigantesche ma che dopo averlo letto appunto mi hanno in qualche modo me l'hanno distrutte queste aspettative il libro non mi è piaciuto assolutamente non c'è stato veramente niente che mi abbia convinto e conquistato quindi ho deciso di interrompere la lettura di questa saga peccato perché davvero le premesse erano molto molto interessanti ma l'esecuzione secondo me davvero tremenda in alcuni punti comunque uscirà questo terzo volume Il 26 di luglio sempre per Fanucci uscirà poi I discepoli del caos si tratta del secondo libro della saga iniziata con Seven Faceless Saints questo fantasy mystery thriller che purtroppo per me anche in questo caso è stata una terribile coccente delusione veramente un libro che non sono riuscito ad apprezzare per nessun aspetto quindi anche in questo caso ovviamente non continuerò la lettura ma comunque Fanucci sta portando avanti la pubblicazione quindi se avete adorato il primo volume questo il secondo uscirà il 26 di luglio e concludiamo ancora il 26 di luglio sempre per Fanucci con un'uscita che invece sono molto contento di vedere arrivare in Italia e sto parlando della giustizia dei re ora forse questa copertina di Fanucci non vi dirà niente questa è la copertina originale che forse vi potrà dire qualcosa anche io inizialmente non avevo fatto il collegamento questo è un libro che io avevo addocchiato quando era stato pubblicato all'estero finalmente sembra arrivare in Italia per Fanucci il libro ci va a raccontare la storia di Conrad Von Walt che è il giudice di l'imperatore il suo dovero è quello di attuare la legge dell'impero e questo è un ruolo che l'ha portato ad essere temuto e rispettato dalla maggior parte delle persone tutta la storia comincerà un po' a smuoversi di più quando Conrad comincerà a indagare sull'omicidio di questa nobile donna e scoprirà che il suo ruolo è messo in discussione la sua autorità è stata messa in discussione e piano piano si ritroverà a dover gestire questa cospirazione che vuole vedere la caduta appunto del ruolo del giudice in modo che l'impero possa finire nel caos e la distruzione ripeto questo era un libro che all'epoca mi aveva interessato tantissimo oggi probabilmente sono meno interessato ma comunque mi piacerebbe dare un'opportunità a questo libro magari prima mi andrò a leggere qualche recensione per capire come è stato un po' il riscontro dei lettori nel mondo e poi staremo a vedere se leggerlo o meno bene siamo arrivati alla fine di questo video come sempre io spero che questo video dedicato alle nuove uscite del mese vi sia stato utile ma soprattutto sono curioso di sapere qual è l'uscita che state attendendo di più se mi sono dimenticato qualcosa ovviamente scrivete pure nei commenti noi appunto ci leggiamo sotto e ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti